Salve Dozers, video velocissimo per dirvi che alle 14.30 di oggi chiaramente farò streaming su Mario Kart 8 e possibilmente più tardi se riesco anche su Monster Hunter 3 Ultimate Se volete partecipare alle varie gare online aggiungetemi su Miiverse, il mio ID è Superdain 640 se non lo sapevate già Chiaramente dovete aggiungermi dal Wii U, ci mancherebbe altro Un'ultima cosa, preferirei che i partecipanti siano nella chat in modo da discutere dei possibili problemi che potremmo incontrare Anche se il servizio online è davvero solido quindi non credo che ce ne saranno E questo è tutto, ci vediamo oggi pomeriggio, bye bye